Sulla riapertura delle scuole non esiste solo il fronte NODAD e PRODAD. Ci sono infatti tanti genitori che pur non del tutto favorevoli alla didattica a distanza, non hanno apprezzato il modo in cui si è tornati alle lezioni in presenza. Noi siamo rientrati a scuola a colpi di tribunale, io direi, e di ricorsi. Come si è aperte è chiaro che si può anche richiudere, soprattutto perché è stata lasciata la discrezionalità ai dirigenti e ai sindaci. Sul modello di quanto già avviene in Umbria ed Emilia Romagna, i genitori hanno avanzato una proposta. Ovvero tamponi per studenti, per famiglie e per personale docente e personale non docente all'interno delle farmacie. Un luogo territorialmente più vicino a tutti gli operatori della scuola affinché ci sia un tracciamento continuo e costante. Ma il rientro in sicurezza non si ferma solo a questo. La scuola si cura, gioco un po' sulla parola, si cura perché si cura. Quindi oltre ai presidi sanitari, un'altra cosa che sarebbe fondamentale è al tracciamento, si potrebbero inserire i docenti come prioritari nelle vaccinazioni. Sulle vaccinazioni anche ai docenti è in corso un dibattito a livello nazionale. Gli screening invece sembravano cosa si cura in Campania già da prima di Natale, quando ancora nessun alunno, neanche quelli dell'infanzia, era tornato in aula. È stato solamente annunciato l'acquisto di 350.000 tamponi dal governatore della regione Campania, ma tuttora i medici di famiglia non hanno assolutamente notizie di questa cosa, almeno per quanto riguarda l'asile del nostro territorio. Si sente sicuro la genitore a mandarli a scuola? La scuola è un luogo sicuro, tuttavia siamo in un periodo pandemico, pertanto tutto quello che succede fuori dalla scuola è un qualche cosa di incontrollabile e può ritornare all'interno della scuola. Quindi è molto importante fare lo screening e tirarle fuori dal mondo della scuola e non permettere che il contagio possa girare ancora di più.